Oh, 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 c'è una show 300 per abambipini, ragazzi. Io, io, inizio a pregare Gesù. Ti prego, no, Gesù, ti prego, no, Gesù, ti prego, non lo giocherò mai più questo spot. Gesù, non lo giocherò mai più su questo spot. Vinto. Vinto. Sì, ora devo fare pausa, ragazzi, di andarmi a fare una sega. Pot 1.200, 1.200.